...pixelizzata, si riconosce all'infinito, all'al massimo della digitalizzazione del nostro immaginario che però vi sembra costantemente, costantemente essere una tempesta reale come se fossimo arrivati a fare una tempesta invece si riconosce praticamente costantemente la stagione anche per la mia immaginaria è una struttura di tipo e per la mia tempesta però se non c'è una dimensione, non c'è una dimensione, non c'è una dimensione non c'è una dimensione, non c'è una dimensione